La passione per il rugby La passione per il rugby l'ho sviluppata quando ho cominciato a giocare però la mia storia era abbastanza grossi tutti i miei amici di scuola volevano che giocassi al rugby allora mia madre non voleva allora un giorno ho avuto un piano diabolico, poi giocavo a basket e sono andato spinto all'auretrio del basket ma non sono sospeso la vita e così ho cominciato questa passione per il rugby Diciamo passione io ho passione per il rugby giocato per quello che sia la vita in squadra il rugby in sé a me non è che mi piace molto non l'ho mai guardato non è che conosco il giocatore non ho mai visto una partita del mondiale a me piaceva io ho passione per quello che succedeva dentro in campo e per quello che succedeva fuori del campo con i miei amici infatti l'unica cosa che mi manca è la vita la vita in squadra per il resto a me il rugby come tutte quelle cose che sono un po' politiche non sono molto d'accordo però io ho passione per quello che c'è dentro il campo per il vero rugby e per l'amore che c'è tra i compagni di squadra per il resto non mi interessa niente vi aspetto il 30 ottobre alle 21 per lo spettacolo Sport e Etica al Teatro Brancaccio non mancate grazie 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 grazie